C'è l'intesa finalmente tra Comune di Salerno e Anas per la pulizia delle aree nei pressi degli svincoli della tangenziale di Salerno. Da sempre micro discariche a cielo aperto. Da questa mattina ogni mercoledì partiranno interventi di bonifica. Il primo oggi ha riguardato lo svincolo del Parco Arbostella nel tratto Mare e Monti. Proprio quello che era finito nel mirino delle critiche da parte di Agostino Gallozzi, il presidente del Marina d'Arechi Port Village, aveva bacchettato il Comune che costringeva i turisti in arrivo e partenza dal prestigioso approdo di barche di lusso ad attraversare luoghi non proprio da cartolina. L'intervento ha reso necessario questa mattina il blocco della circolazione stradale. L'Anas con un bobcat ha rimossi rifiuti che sono stati raccolti e smaltiti dagli operai della Salerno Pulita. Il Comune a sua volta ha assicurato anche l'impiego di dipendenti di una cooperativa a servizio dell'amministrazione per il taglio dell'erba. Il deposito di rifiuti nelle piazzole di sosta e lungo le carreggiate rappresenta da sempre un problema, anche per il conflitto sulle competenze e i costi di bonifica. Sulla questione ieri si è espresso anche il parlamentare del Partito Democratico, Piero De Luca. Dopo mesi di battaglie risolviamo la problematica relativa all'arteria, agli svincoli e alle pertinenze stradali. La pulizia e il decoro della rete stradale di accesso alla città di Salerno è fondamentale, non solo per garantire sicurezza, ha ricordato De Luca, ma anche per fornire un biglietto da visita adeguato ai tanti turisti che affollano tutto l'anno il nostro territorio.